Memoria di massa. Se sei stanco di avere sempre problemi di spazio insufficiente sul tuo dispositivo Android, se sei stufo di dover cancellare i tuoi file preferiti per fare spazio a quelli nuovi, allora non puoi perdere questo video. Qui scoprirai come attivare la memoria di massa USB sul tuo dispositivo e utilizzare al massimo la capacità di archiviazione disponibile. Magari pensi che attivare la memoria di massa USB richieda competenze tecniche particolari o addirittura di fare il root del tuo dispositivo. Niente di più sbagliato! Seguendo le semplici istruzioni che ti mostreremo in questo video, potrai abilitare la memoria di massa USB sul tuo dispositivo in pochi minuti, senza dover fare il root o scaricare applicazioni speciali. Una volta attivata la memoria di massa USB, avrai a disposizione un'unità flash USB sul tuo dispositivo Android, pronta a contenere tutti i tuoi file e documenti. E il vantaggio non è solo quello di avere più spazio per i tuoi file, ma anche la possibilità di trasferirli facilmente dal tuo dispositivo al computer, senza bisogno di utilizzare app di terze parti o software complicati. In questo video ti spiegheremo anche come risolvere eventuali problemi che potresti incontrare durante l'attivazione della memoria di massa USB, come ad esempio la mancanza dell'opzione USB Mass Storage nelle impostazioni del dispositivo. Ti mostreremo tutti i passaggi necessari per abilitare la modalità di archiviazione di massa USB senza dover fare il root del tuo dispositivo. Non perdere questa opportunità di liberare spazio sul tuo dispositivo e di utilizzarlo come un'unità flash USB per tutti i tuoi file. Guarda subito questo video e scopri come attivare la memoria di massa USB sul tuo dispositivo Android. Grazie per aver guardato questo video. Se volete aiutare il canale non dimenticate di iscrivervi. Da qui vi auguriamo una buona giornata. Grazie per aver guardato questo video.